Nooo! Esci dalle corde! Rocky! Copriti, forza, copriti! Così! Mia madre me ne dava più forte, avanti! Dai, colpisci! Sulla faccia, dai, sulla faccia! Non fa più tanto male, eh! Benissimo! Rocky continua a colpirlo con una serie di combi, mentre Klaber è ormai fermo al centro del ring! Klaber accenna una timida reazione, ma Rocky insiste con il suo destro, adesso spinge Klaber alle corne e lo martella il corpo! Ancora, ancora, ancora! È scatenato! Una serie impressionante! Ancora! Klaber si difende con difficoltà, sta cedendo all'impeto di Rocky! Ancora! 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 said, eh 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 oh! Esci! Scherzer! Grazie.